Allora, pure se non c'è, io vi voglio dire che dal 23 al 24 gennaio c'è il Bish Party all'Augusteo. Sta andando clamorosamente bene, non lo sentite così... Grazie a noi, traditore. Non lo so, però sì, la pre-vendita. Ah, ok. Anche se ci sono stati dei problemi tecnici, il maltempo, la pre-vendita, lo sa, siamo... Siamo... di succedo la pre-vendita. E questa è la mia gioia. Io vi dovevo dire una cosa e vi potevo... Adela! Harry! E se ci mi dà che fai tu? Adela! Allora, vai me lo c'è. Questo teatro io lo conosco molto bene l'Augusteo, quindi lo devi riempire tanto, tanto, tanto. La verità è che noi la settimana prossima vi daremo un annuncio clamoroso. Tutte le persone che si stanno per sposare... Tenite in mano. Non fissate impegni, perché il 23 al 24 gennaio molto probabilmente vi sposerete all'Augusteo. Rossello. Bravo! Ciao, vai! Che bello! Peppe Iodice! Deve vai? Non fuori dallo studio! Torna al tuo posto! Dai che cominciamo!